Siamo qui a The Path, la conferenza internazionale per i profughi ambientali con Rossella Murore, presidente di Lega Ambiente. Rossella, qual è il ruolo del mondo ambientalista in questo incontro in cui appunto si uniscono due mondi, il mondo cattolico e quello ambientalista, attraverso l'enciclica Laudato Si? Beh, proprio sottolineare che non ci sono mondi distinti, ma che la questione climatica e la questione sociale sono assolutamente interconnesse. D'altronde la Lega Ambiente ben 14 anni fa lanciava una campagna dal titolo Clima e povertà, proprio a sottolineare quanto la questione ambientale è fortemente connessa con i fenomeni di ingiustizia sociale, di povertà, di guerre e il fenomeno dei migranti ambientali è quello che ci dà più la misura di quanto stiamo vedendo e di quello che raccontiamo in questo nostro incontro, in cui abbiamo voluto mettere intorno a un tavolo tutte le voci coinvolte, il mondo religioso sicuramente, ma soprattutto il mondo culturale, per far sì che questo fenomeno venga sottolineato, ma non come un'emergenza, quanto piuttosto come un dato ineludibile, un fenomeno storico, geopolitico, di cui noi dobbiamo prendere atto e che vede però anche per l'Europa una straordinaria occasione per farne un valore aggiunto. Quali sono i numeri di questa emergenza ambientale nel mondo? Beh, questo per esempio è uno dei problemi. Noi sappiamo dai dati dell'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni che rispetto a 40 anni fa è aumentato del 60% la possibilità di migrare per fenomeni legati ai mutamenti climatici. Sappiamo di certo che le regioni da cui provengono i profughi spesso sono regioni che vivono anche gli effetti dei mutamenti climatici, ma che queste sono fortemente interconnesse con la povertà e con le guerre. Ecco, allora il primo dato da sottolineare è che forse è superata ormai la definizione di profugo e l'Europa dovrebbe studiare un nuovo diritto di accoglienza proprio per dar conto di un fenomeno che è in crescita, ma non è un'invasione e però è straordinariamente più complesso rispetto a 40 anni fa.